A Cagli procedono i cantieri della regione Marche. Qui siamo nel terreno dove sorgerà il nuovo presidio sanitario di Cagli, che è un comune importante della Valle del Metauro. Perché sono importanti i cantieri? Perché con i cantieri restituiamo servizi, in questo caso sanitarie, ad una comunità alla quale erano stati sottratti. Con un potenziamento di questi servizi, come previsto, dal nuovo piano sanitario voluto dalla giunta Acquaroli. 15 milioni di euro di investimenti, per i quali oggi vediamo una fase di cantiere, quello delle bonifiche belliche che stanno per essere concluse. In prossimi giorni arriverà il genio militare a colladare questi lavori, poi partiranno le tricee per le verifiche archeologiche e infine la costruzione dell'edificio, con lo scavo e l'edificazione del nuovo presidio. Ecco la grande attenzione a tutti i territori da parte della giunta Acquaroli, un'attenzione con la quale tramite le infrastrutture vogliamo sbloccare l'economia di tutta la nostra regione, dal nord al sud. E allora con le infrastrutture stiamo sbloccando le marche, la giunta Acquaroli sta rilanciando l'economia di questa regione.